Musica Noi abitiamo un po' una conchiglia vuota. Ormai Venezia è un po' questo. Perché intanto principalmente la città si è spopolata molto. Il numero degli abitanti continua a diminuire. C'è più un bambino, sono tutti vecchi. La roba che non va bene è trovare più turisti che veneziani per strada, tutto qua. Noi non ci sono più abitanti, conoscenze, mestieri tradizionali. Musica Insieme ai grandi maestri muoiono anche i segreti. Secondo me è fondamentale che ci siano i giovani, le nuove generazioni che si interessino a questo mondo, trasformandolo e rendendolo più moderno, più attuale. Musica Mi dispiace un po' da essere l'ultimo in Venezia a fare questo mestiere. Musica Quando non ci saranno più abitanti o veneziani, la città sarà ovviamente un museo. Musica 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 Grazie a tutti.